Voglio lasciare una recensione positiva su questo corso online e sulla professionalità e la bravura dello chef Andrea. Io ho scoperto lo chef per caso su internet, ho visto dei video su YouTube e ho deciso di acquistare i suoi corsi perché mi sembrava veramente ottimo e soprattutto mi piaceva il modo in cui spiegava le cose in modo chiaro e preciso. Io in particolare ho scelto il corso pasticceria di base, nonostante abbia già un diploma in pasticceria alcune cose non le avevo proprio mai viste e sentite perché a scuola per mancanza di tempo non si affrontano determinati argomenti. Però mi sono trovata veramente bene e sicuramente finito questo ne acquisterò altri e soprattutto mi sono trovata bene sul fatto che sia online perché può essere gestito in qualsiasi momento non c'è un orario fisso quindi può essere gestito anche con il lavoro mentre si lavora. Quindi consiglio a tutti questo corso e sicuramente continuerò ad acquistarne altri.